Let's play I'm at Portia questo RPG open world in cui abbiamo già creato con il nostro Artù, il mio cane un negozietto, si chiama Shark Shops ma prima di cominciare ho da farvi alcune no domande, ma devo dirvi alcune cose importanti, innanzitutto probabilmente questi sono gli ultimi tre video l'ultimo weekend di video prima dell'estate perché per voi mentre voi, anzi voi siete già al mare da un bel po' o comunque lo sarete se avete fatto gli esami eccetera eccetera io il 31 luglio comincio a lavorare ancora di più di quanto non abbia fatto fino ad ora e quindi tra l'altro mi trasferisco per qualche mese a Nord Italia e non avrò moltissimo tempo forse per niente per registrare video, comunque mi porto il computer e farò di tutto magari a settembre per ricominciare, d'altronde io settimana prossima sono al Campus Party primo evento sull'innovazione d'Italia e quindi dal 20 al 23 luglio sono lì a Milano anzi se qualcuno di voi è lì nell'evento ci incontreremo, ci conosceremo otterrò anche due workshop e quindi sarà una cosa un po' meno fancazzista però divertente e molto figa quindi questa era la prima informazione che vi devo dare la seconda informazione è che sti Pokémon mi stanno salendo fin qui, fin sopra il capello guardate io già non ne ho tanti ma mi stanno salendo fin sopra i capelli e ho paura che se ho troppi Pokémon sui capelli mi cadono gli ultimi quattro che ho per cui ho deciso che questa settimana A Monster non uscirà ma uscirà ebbene proprio domani Poketown e visto che My Time at Portia mi sta piacendo tantissimo farò ben due video su My Time at Portia quindi oggi è il primo video e domenica ci sarà l'altro detto questo con la voce che mi squilla come se fosse una tromba d'orchestra entriamo in Portia eeeh torniamo a dedicarci alle faccende del nostro negozio oh ma salve signor chi va là e che ha da chiedermi qualcosa per caso The Fishing Rod oh salve si per caso vuole una sua nuova una canna da pesca nuova per il suo panzone si perché lei è un grande pescatore ma senza canna da pesca fa veramente schifo va bene non c'è bisogno che scappa così di corsa signor signor che va gliela faccio subito cioè lei ha contattato Artù il miglior artigiano di Portia venga a ritirarla domani a Shark Shop ci sarà la sua canna da pesca non mi rompa le palle eh ok vabbè scusate parlavo con il signor Kiva un tipo molto molto strano l'avete visto in ogni caso sto finendo il giro mh dei ehi Toaddy dove cazzo corri dai che arrivi tardi a scuola spostati un po' perché questo non si sposta vabbè mori ammazzato eh sto finendo il giro dei mh degli shop owner perché poi continuiamo con le nostre quest in particolare vorrei andare in miniera in questo episodio assolutamente sì ok abbiamo terminato il giro degli shop owner quindi ci ritroviamo qui a casa di Presley non è proprio casa di Presley ma salve signor Antoine perché adesso ha visto Presley perché abbiamo finito la quest il signor Antoine non mi risponde è molto serio ma è un serio oh salve signor Presley ho finito la quest che cazzo devo fare signor Presley perché mi ignorate tutti oh vedi un punto esclamativo qui ok ah questa è la bacheca degli ordini che sono disponibili per questo giorno vediamo che cosa possiamo accettare 5 pannelli di vetro molto interessante si potrebbe fare perché serve semplicemente della sabbia e se andiamo in miniera la facciamo facilmente we need 8 stone brick to fix some of gaps ancora meglio perché 8 stone brick si fanno con semplicemente la pietra quindi non devo neanche andare in miniera there's some red problems abbiamo bisogno di 3 work clothes no assolutamente no sono difficilissimi da fare a questo livello del gioco quindi accetterò questo quanto mi da di soldi 10 in meno ma va benissimo quindi corro subito a prendere della legna a mettere in funzione la nostra fornace per mettere a fare 8 brick tra l'altro per poter entrare nella miniera dobbiamo spendere dei soldini costa ben 80 denari non so quale sia la moneta di questo gioco per cui ora vado in giro a raccattare roba per fare soldini ok solo 6 brick che ci permette di mettere a cuocere abbiamo ripristinato la nostra stone fornace l'abbiamo diciamo riempita di legna ci dura la legna una ventina di ore 6 brick di pietra ce li fa in 15 ore quindi poi dobbiamo tornare e fare altra pietra ah non ne possiamo mettere altri perché abbiamo finito la stone ecco quindi vado a ritirare altra stone e mi serve altra legna perché ragazzi dobbiamo fare 80 denari con pietra e legna che valgono uno l'uno per farci i denari all'inizio e ci vuole un po' ci vuole assolutamente un po' quindi mi do da fare e vado avanti qui a porzia si sta facendo veramente tardi io sto anche esaurendo la mia energia quindi sono le 18 nel gioco anche in realtà veramente a casa mia sono le 18 ma vabbè questa è un'altra cosa e ho raccolto abbastanza materiali penso per riuscire domani mattina ad andare a vendere tutto intanto vado a vendere anche i brick quindi ritiro pure i soldi di quella quest ah non mi serve che vendo materiale fantastico vado direttamente a vendere i brick ottimo così e quindi io direi di andarcene a dormire consumare gli ultimi pezzi l'ultima quantità di energia e ci vediamo domani a porzia venite a trovarmi allo shark shop e un altro giorno qui a porzia con artù che ha prodotto tutti i nostri brick no gli manca ancora qualcosa hai bisogno di fuel no o bene anzi si perché se no tu non ce la fai a finire la produzione dannazione quanto sei lento a produrre ok ce ne abbiamo per 5 ore a questo punto ne approfitto per darti ancora un po' di pietra da fare ma se ma io ti riempio tutto di quello che ho ma chi se ne frega ok ragazzi allora dobbiamo aspettare che ci fa l'ultimo stone brick che dovrebbe finirlo in pochi minuti perché abbiamo attualmente 7 stone brick ce ne servono 8 quindi ci rimane l'ultimo intanto possiamo anche farci una copper bar e abbiamo il materiale necessario per fare la canna da pesca a quel signore però per poter fare la copper bar abbiamo bisogno di di che si liberi la fornace per cui iniziamo ad espandere subito il nostro negozio e io mi farei un'altra fornace ma non ho pietra che la vado a prendere e voilà in pochissimi passaggi abbiamo raddoppiato letteralmente la nostra produzione e ora che andiamo in miniera ci servono assolutamente due fornaci se non tre e forse anche quattro comunque cominciamo per ora con una allora tu quanto tempo ci metti a fare un cavolo di vabbè io non te ne metto tanto perché al momento non ci serve perché andrebbe molto sprecato un paio d'ore dovresti farcela ti metto due ore e mezza ok ti devo dare un altro di legno ed è sufficiente insomma per farti finire la prima nostra copper bar quindi ritereremo anche i soldi dal signore che sta qui fattugliando la nostra zona signore non è ancora pronta la sua canda pesca sta bruciando un attimo il copper ok il rame madonna che faccia brutta che c'hai intanto vado a consegnare la quest e prendiamo i soldi necessari a prenderci il nostro sensore di realtà aumentata per entrare nella miniera sì perché in questo gioco si va in realtà aumentata nella miniera non so perché non mi chiedete perché è una cosa folle è così che cosa vi devo fare io però ecco perché costa 80 denari ogni volta per entrarci e vabbè facciamo così allora sì salve te do quelli tu mi dai i soldi ci vediamo ah una cosa importantissima abbiamo preso i nostri primi 30 punti per aver fatto la quest vediamo un po' il nostro rank siamo sotto la merda ne abbiamo ben 60 ok il primo ne ha 796 mi sento veramente uno schifo siamo di grado D facciamo veramente cacare i cani vediamo se abbiamo qualche altra quest che possiamo prendere in previsione di quello 4 copper plates non è proprio semplice 5 panel of glasses mi sa che è la cosa più l'ideale insomma no io voglio 5 panel glasses si facciamo piccole quest che almeno sappiamo di poter fare anche perché se non erro non si possono fare più di una quest di quel muro almeno forse fino a questo momento forse perché abbiamo ancora una licenza di grado basso quindi per il momento si può fare una sola quest quindi cerchiamo di farne una al giorno e di prenderci i nostri 30 punti al giorno per scalare velocemente la nostra classifica allora mi scusi tocca appena ne voglio voglio andare alla cazzo di miniera dove si trova la miniera mi ricordo che da queste parti con un tipo strano davanti ecco partiva il video esatto il tipo strano è proprio questo qua che ti dicevo che ora ci dice che ci dà del materiale super prezioso ci dice come utilizzare la realtà aumentata senti signor pirla sono uno youtuber profetto e so come si usa la realtà aumentata va bene lei se ne va da cagare va io entro dentro e spieco io ai miei follower come si 80 gold che moneta strana c'avete voi i gold senza la 2 una moneta un poco poco preziosa in ogni caso ora vi faccio vedere che non dico minchiate perché siamo veramente in realtà aumentate guarda ditemi se non siamo in realtà aumentata qui dentro e poi ditemi che mamma di dici le cazzate eh in ogni caso allora come funziona sta miniera noi ci possiamo rimanere quanto taccato di tempo vogliamo ho capito ho capito che devo premere effetti lo primo dopo va bene allora io ho scoperto che le zone marroncine contengo si ci abbiamo anche il jetpack avete visto bene ci abbiamo il jetpack con lo spazio ci si eleva col jetpack e e le zone marroncine contengono molti più minerali allora i minerali che si possono trovare qui dentro sono fondamentalmente copper e tin sarebbe rame e tin non mi ricordo cos'è lo stagno o una cosa del genere quindi sicuramente la cosa che voglio in assoluto è prendermi tanto 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 rame perché poi lo si vende bene per le quest eccetera ma premendo F che era la cosa che ci diceva prima parte uno scanner che ci fa vedere tipo le costellazioni allora se noi puntiamo il nostro scanner su una di queste palline vedete ci fa vedere quanto è distante ci dice come raggiungerla in pratica si trovano dei pezzi ecco questa è molto più vicina perché è più grande quindi andiamo da questa mi dice ecco vedete se esco dalla visualizzazione con scanner comunque mi dice come arrivarci quindi ci arrivo di qua veloce veloce in pratica queste palline ci segnalano degli oggetti nascosti preziosi che possono essere o delle parti meccaniche abbandonate oppure delle pietre vediamo in questo caso cosa troveremo sono delle pietre che ci servono per far azionare determinati marchi ingegni determinati macchinari ecco ho trovato delle parti meccaniche a sto giro ma va bene anche queste non ho ancora capito non sono ancora andato abbastanza avanti nel gioco per sapere esattamente a cosa ci servono però va bene così allora vedo se da qua sotto trovo qualcosa di più vicino magari ecco lo sapevo lo sapevo sono diventato ormai intelligente in questo gioco a 6 metri di distanza scavando un po' qui andando verso nord sud ovest est dovremmo trovare un altro pezzo ti prego fai che sia una pietra non voglio solo parti meccaniche no mi sa che è proprio un'altra old party che palle però in compensa abbiamo trovato la sabbia un po' di sabbia ci serve quindi rimango a questo livello perché ci serve la sabbia per fare la nostra prossima quest ci servono mi pare 5 pezzi non mi ricordo è stata ecco abbiamo superato un altro livello altra stamina per noi oh signori oh mio dio quanto sono sceso in basso e non significa che faccio schifo va bene io passo praticamente tutta la giornata miniera per sfruttare al massimo il mio investimento non riesco a vedere quella pallina lì e quindi ci vediamo penso a fine giornata con il bottino della giornata dannazione voglio andare in quella cazzo di pallina vedrò trotto le scatole ci vediamo dopo ok ho finito molto prima del previsto la stamina speravo di trovare della roba in più ma a quanto pare non è stata così cacchio non riesco ad uscire dannazione no non vorrei rimanere qua bloccatissimo ok allora per uscire da qui è molto semplice basta tornare al punto d'ingresso e ci esci cioè non c'è niente di particolare sempre se non si scarica il vostro jetpack se non siete fottuti in realtà si dovrebbe ricaricare automaticamente quindi non dovreste mai rimanere bloccati alla miniera a meno a me non è mai successo ora voglio controllare con voi il bottino allora ho trovato 28 pezzi di sabbia fantastico 29 lingotte 29 pezzi di copper anzi sono 30 non so perché lui si è andato a sfancolizzare 7 di kin quindi possiamo fare del bronzo abbiamo 4 parti vecchie quindi e 3 pietre 3 power stone le power stone non sono quelle pietre che vi dicevo che ci fanno alimentare dei macchinari che costruiremo più avanti quindi io vado subito a mettere in produzione il vetro così domani mattina quando ci svegliamo abbiamo i nostri 5 pannelli di vetro dovrei poter fare anche la fishing rod quindi la canna da pesca per il nostro signore e domani si prospetta una giornata ancora più ricca di soldi 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 signori ok la mattina loro in bocca e infatti qui a porzi è cominciato il nostro quinto giorno e le mie fornaci sono piene 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 di roba poi sono riuscito a mettere solo a produrre 3 pannelli di vetro quindi oggi se non ci sbrughiamo non riusciamo a finire la quest infatti dobbiamo correre in miniera ad andare a ritirare subito ad andare a prendere l'altra sabbia dov'è il signore della canna da pesca mi deve dare i soldi che mi devo pagare l'entrata in miniera venga qui si muova di corsa io penso che passerò questa sarà l'ultima giornata ragazzi poi chiudiamo il video passerò quest'ultima giornata a finire queste ultime cosette dopodichè ecco qua quanto ci hai dato ma che merda ma chi se ne frega dei tuoi vermetti di merda pensavo mi dessi un po' di soldi va bene effettivamente è inutile che continuo a registrare tanto tornerò in miniera faccio un altro po' di scorta di materiali infatti oggi vedete ho 300 su 300 di stamina la consumerò tutto in miniera perché mi servono i materiali espandiamo ancora un po' il negozio oh mio dio chi sei tu la suora Nora salve no ma te ti voglio conoscere oh ma quanto oh ciao chat subito oh si tu guidi la chiesa ma valla a raccontare a qualcun altro certo la razza senti ma come si entra in questa religione chi vuole entrare nella religione di Nora me lo scrive nei commenti ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi se vi è piaciuto il video sostenite il canale la serie ci vediamo forse non lo so non credo la settimana prossima se no ci vediamo sempre su questo gioco domenica un saluto shakshan a tutti se siete arrivati fin qui scrivete nei commenti hashtag la suora gnocca hashtag la suora gnocca ci vediamo nel prossimo episodio ciao ciao